Le donne sono il nodo e lo snodo delle questioni impregnate di futuro, scriveva così Anna Maria Longo, combattente indimenticata, amante della cultura e della libertà, donna coraggiosa, forte e determinata, che ha lottato con tutta se stessa e per tutta la sua vita per i diritti delle donne. L'Udi, insieme ad altre associazioni femminili, tra cui Ande, Astarte, attivamente coinvolte Ollus, Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Mondorosa, Fidapa, Rete Città Vicine, hanno organizzato una conferenza stampa con il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, e con la consigliera di parità Elena Morano V, per chiedere che venga riconosciuto un luogo da intitolare alla memoria di Anna Maria Longo. In questa giornata abbiamo voluto chiedere un luogo, che per noi è una sorta di casa, un luogo di vulfiana memoria, per così dire una stanza tutta per noi, dove poter elaborare progetti, dove potersi vedere, dove poter parlare, dove poter avere parola. Intitolarla Anna Maria Longo ha un suo significato preciso, una donna che appunto è stata la responsabile di Udi di Catanzaro. L'istituzione della provincia ha dato la sua disponibilità, ha l'intenzione di intitolare una via, un luogo nel parco della via diversità, però a tutt'oggi non ha adesso un luogo, non dispone di un luogo che possa essere intitolato ad una donna, pur riconoscendone il grande valore sotto ogni profilo. Mi sto attivando per vedere se abbiamo ancora una sala, perché molte sale le abbiamo già intitolate a personalità e la provincia mette a disposizione intanto delle associazioni gli spazi che ha, la sala giunta per le riunioni eccetera. Per quanto riguarda uno spazio per ricordare una grande donna come Anna Maria Longo, vediamo un attimo come nei prossimi giorni svilupperemo un'idea. Mi è piaciuta molto, non solo come nella mia storica esperienza sulle pari opportunità, ma nella mia qualità proprio di consigliera di parità, mi sono sentita di aderire perché Anna Maria Longo è stata una donna che ha amato molto le donne, è stata una donna molto appassionata nei confronti delle donne, una donna che ha lottato non solo genericamente per i diritti delle donne, ma una donna che ha lottato per i diritti civili, politici, per la partecipazione delle donne in politica, per la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. L'obiettivo dell'accordata delle associazioni femminili è quello di non dimenticare le battaglie di Anna Maria Longo e di scrivere una nuova pagina di storia della città, grazie ad una rete che ieri nella giornata internazionale della donna ha preso l'impegno di riunirsi in quella che diventerà una vera e propria casa delle donne, al fine di condividere finalità ed idee per il futuro, perché come diceva Anna Maria, la vita è fatta di continue sfide. L'insegnamento più importante è stato quello che la vita è fatta di continue sfide e che bisogna lottare per cambiare la condizione in cui viviamo. Ringraziamo il Presidente della Provincia che ci permette di dare uno spazio, di intitolare uno spazio del Parco alla memoria di Anna Maria Longo in modo che tutti quelli che passano possono, magari ci metteremo femminista con la data di nascita o troveremo un modo perché tutti quelli che la possono conoscere possono pensare che qualcuno, le donne, si possono impegnare per le altre e che questo poi si trasmette a catena ed è una rivoluzione, un fiume che scorre e che poi arriva fino al mare.